È un'emozione, anche se il tempo è un po' così, ma è uno dei sport più belli del mondo, ti permette di stare a contatto con la natura, sempre fuori, sempre a giro. Bello, perché c'è un'acqua completamente differente, noi siamo abituati all'acqua marrone, qua invece si vede il fondale, quindi è molto bello, è più natura aperta. In Canoa e Gomone hanno percorso il tratto a Retino dell'Arno, tra Borgogiovi e Ponte Aburiano-La Penna. Iniziato nelle foreste casentinesi, prosegue così le vie di Arno, il calendario di iniziative messa a punto dai canottieri comunali Firenze per celebrare 90 anni di vita con una discesa completa del fiume dalla sorgente alla foce. Finora abbiamo visto un fiume in buone condizioni, con una vegetazione notevole, abbastanza pulito, c'è qualche residuo di plastica, ma diciamo che almeno dal punto di vista visivo l'acqua sembra in ottime condizioni. L'aspetto da segnalare, uno l'ho già detto, quello di avere lungo il fiume magari una via ciclabile, sarebbe l'ottimo, e dal punto di vista canoistico ci sono spesso delle chiusi o delle pescaie che rendano difficoltoso la navigazione. Una quarantina le persone, tra ragazzi, atleti e semplici soci che hanno pagaiato, accompagnati da una guida ambientale, solcando il fiume nell'invaso della penna. Bellissimo, il fiume è veramente bello, veramente bello. C'è qualche plastichina, ma non molte, direi piuttosto pulito. È stato meraviglioso, stupendo, io mi sono divertita molto. Il progetto vuole essere un tributo al fiume Arno, ma anche l'occasione per verificarne lo stato di salute. Conosci il fiume dall'interno permette anche ad enti, come il Consorzio di Bonifica, di poter meglio valutare le condizioni del fiume stesso, degli argini, della vegetazione riparia, e intervenire in modo più mirato sulle interventi di maturazione che noi siamo obbligati a fare. Questo permette anche, questo tipo di attività, di far conoscere il fiume, far conoscere il fiume e rendere anche i cittadini partecipi e coscienti di quello che il fiume rappresenta.